Quando il paziente munito della ricetta del medico si reca presso il farmacista, presso la farmacia e il medico non abbia posto sulla ricetta la cosiddetta clausola di non sostituibilità del farmaco prescritto, nel qual caso il farmacista è obbligato a dargli quel farmaco, il farmacista stesso per legge è viceversa obbligato a rappresentare al paziente l'esistenza di farmaci generici e di offrirli, per così dire, quello a costo minore. Naturalmente, siccome il farmaco generico è un farmaco che si dice è bioequivalente rispetto al farmaco originale o di marca, in realtà in termini semplici è dotato di eccipienti diversi, per esempio, i quali possono porre qualche problema, ad esempio rispetto a un paziente che sia allergico in relazione a quegli eccipienti ed è poi dotato di un'efficacia clinica, efficacia terapeutica forse meglio, meno forte o può essere dotato di un'efficacia terapeutica meno forte del farmaco originale, il farmacista deve essere estremamente accorto in questa fase di sostituzione, cioè dovrebbe anche farsi carico di prendere informazioni, per esempio, sulla esistenza di ragioni di allergia rispetto agli eccipienti contenuti nel farmaco che propone al paziente e che egli naturalmente in virtù della sua competenza professionale è tenuto a conoscere.